Si racconta che nel lontano 1600 i pasticcieri locali preparassero un dolcetto leggermente dolce e amaro da regalare e da fornire ai signori del paese che poi lo regalavano anche ai loro amici fuori dalla regione. Io sono Giulio Garansino e da molti anni sono l'amministratore della società Franco Vicenzi e produciamo amaretti morbidi di Mon Baruzzo. L'amaretto è preparato con pochissimi ingredienti, quindi è molto importante la capacità con la quale si integrano i vari ingredienti come si preparano per avere una qualità eccezionale. Sono realizzati con armelline, mandorle, zucchero e albume d'uovo di altissima qualità. Una partivarietà, l'amaretto morbidi di Mon Baruzzo è un prodotto naturalmente molto fritto. Si può consumare in diverse occasioni, in tutta la giornata come piccolo spuntino, può essere un componente del buretto piemontese e fa parte degli ingredienti che compongono il fritto misto alla piemontese. iscriviti al nostro canale. iscriviti al nostro canale.